Ciao a tutti vediamo come fare uno screenshot dello schermo del computer vi propongo due metodi il primo quello che preferisco io un po' più rapido il secondo invece un pelo più lunghino ma possiamo andare nel dettaglio e modificare la schermata allora cominciamo subito con quello che preferisco io ovvero fate semplicemente stamp basta fate stamp e il risultato ce l'avete già sul copia e incolla quindi vi basta fare ctrl v tipo su telegram ad esempio qua discord vedete mi ha copiato l'immagine quindi io ve la mando per far vedere il risultato avendo io due schermi che cosa va a fare mi va con stamp a fare appunto lo screenshot di entrambi gli schermi se avete un solo schermo non è un problema nel caso abbiate due schermi e volete prendere solo uno schermo vi basta andare sullo schermo che vi interessa fate alt stamp quindi non solo stamp torniamo su discord ctrl v e vedete che se lo mando adesso ho un solo schermo mi sono posizionato sullo schermo dove ho il programma per registrare obs altrimenti se volete utilizzare il programma per le catture vi basta fare strumento di cattura eccolo qua vi compare questa schermata e abbiamo la possibilità di scegliere la modalità possiamo fare formato libero vi faccio vedere ecco qua quindi con formato libero scegliamo quello che ci interessa facciamo così nel momento in cui lascio andare mi taglia la schermata oppure possiamo fare formato rettangolare fatemi fare nuovo diventa tutto bianco possiamo scegliere come trascinare il rettangolo facciamo così vedete ha fatto quella schermata oppure cambiamo modalità cattura finestra nuovo e ci da la possibilità di selezionare direttamente una finestra vedete che qua è comparso il rosso il rosso indica la finestra che stiamo selezionando se poi premete vi va a fare lo screenshot ve lo faccio vedere ecco qua vedete ho fatto lo screenshot potete mettere qualsiasi tipo di finestra è irrilevante quindi noi come modalità scegliamo rettangolare faccio nuovo prendo una zona qualsiasi ecco qua è molto più comodo di stamp perché possiamo prendere solo una parte non tutto ma soprattutto cosa possiamo fare possiamo scegliere la penna per poi scrivere quindi magari indichiamo questo facciamo così e mettiamo la faccina fatemi mettere una faccina perfetto quindi vedete poi per salvare ci basta fare salve elemento di cattura lo salviamo magari sul desktop tac vediamo un po ed eccolo qua vedete ecco qua l'immagine e questa è la nostra schermata quindi ecco diversi modi per fare uno screenshot del desktop se avete bisogno di altri tutorial vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao